Può l'Italia degli eventi innescare processi economici, processi sociali, processi di aggregazione e di coesione nei territori rurali? Questo potrebbe essere. In altri termini in Italia non siamo molto abituati a che un evento promuova economia, promuova relazioni sociali positive nei territori. Spesso si tratta soltanto di investimenti che lasciano il tempo che trova. Diversamente invece sta accadendo ad Aquara con Aquara Music Fest. Si tratta sì di un evento musicale, di un evento artistico, si tratta di un territorio rurale che sta mettendo insieme tutte le componenti, i linguaggi dell'ospitalità. Ed è proprio la capacità di coniugare l'evento Aquara Music Fest con il territorio rurale che questa riuscendo come una sorta di incantesimo. Cioè laddove gli eventi non si coniugano con il territorio e non lasciano un beneficio positivo, ad Aquara questo sta accadendo. Il fatto che tanti artisti si siano iscritti, riferiti, partecipino all'evento Aquara Music Fest sta a significare che questo evento emerge già come punta dell'iceberg dei territori rurali e quindi come sua proposta anche di offerta territoriale. Noi ci troviamo in un territorio dove fortunatamente l'evento non è questo che è definito e delineato in pochi giorni, ma l'evento invece è il territorio e la comunità. L'evento allora appare soltanto come vetrina di un territorio che durante il resto dell'anno è lì pronto ad accoglierti, è lì pronto ad ospitarti, è lì pronto a farti entrare nel genus loci. E ad Aquara vi sono esperienze di aziende le quali stanno lavorando su questa forma più elevata di turismo, il turismo esperienziale. E questo perché? Perché dall'economia della produzione oggi siamo nell'economia dell'esperienza. Un esempio valga per tutti. Tenuta Mainardi si sta attrezzando per realizzare prodotti esperienziali nei quali coinvolgere i turisti, gli ospiti, i quali non si rivolgono soltanto alla cantina per conoscere il processo lavorativo del vino, non si rivolgono alla cantina soltanto per acquistare un flacone di territorio, il vino, ma si rivolgono a un'azienda rurale agrituristica del territorio per vivere un'esperienza, lasciarne quindi trasformati alla fine di questa esperienza. Ecco, questo è Aquara e Aquara Music Fest.